Amo? Ma lo sai che non si può più dire la parola natale? Come non si può dire la parola n***a? Eh no, guarda. Qui dice nuove linee guida per una comunicazione inclusiva dall'Europa viene vietata la parola n***a. Ma è vero sta storia che le feste si possono festeggiare con dieci persone senza problemi? Dieci persone massimo però eh? Io non le trovo dieci persone senza problemi. Ma no senza problemi significa senza febbre, senza tosse. Ah giusto giusto. Stacco. Ma che qua stanno tutti impicciati, ermute, buffe e cose. Ma io ancora che gli sto a parlà. E' qui la fila? Se pagano i tempi, perché io non li pago eh, ve lo dico. Mi sono fatto duemila chilometri a piedi con l'oro in mano. Fateveli voi, dalla Persia 843 ore. Molto tocca pure pagare. Basta che non sceglievo pure il Super Green Pass perché mi sembra eccessivo. Gabriele ha detto che basta quello base. Corre con ste mani. Chi è Gabriele? Come chi è? Gabriele è l'Arcangelo no? Ah io pensavo che abriguote. Pensavo che abriguote. Vabbè. Bono! Io non pago. Eh perché non paghi? Sono il re omaggio. Senti perché non ci vai a prendere due posticini dietro le pecorelle dietro tutti i contadini che stanno lì pastorelli di San Pugnani che ogni volta siamo lì come tre ebili dopo che ci facciamo tutti i vestiti e poi con tutto il rispetto ma ancora a portare la mirra. La che? La mirra! Ma che c***o serve la mirra? E' il regalo più c***o del dottor Natale. Obiettivamente nessuno ha mai capito che cos'è la mirra. Aspetta. Vita sola? Mi sorella mi ha invitato a passare il Natale dai parenti del marito. Solo che sono tutti francesi. Io non so nulla di francese. Come faccio? Mi ha tagliato io no? Ah perché sei il francese? Ma certo. Ma imparato prima a scuola e poi si accende. Ma francese? Bravo complimenti. Metti touchè di dalle stelle. Vedi? Già stai imparando. Continua. Touchè. Metti touchè. Togli touchè di dalle stelle. Allena. Esercitati. Bravo. Salve buonasera. Buonasera. Per cenare è possibile? Come no? Certo. Posso controllare il suo Super Green Pass per favore? Stai scherzando vero? No. Perché? Mi prende in giro. Dica la verità. Mi prende in giro. No sono le nuove norme in vista del Natale. Ho bisogno di vedere il Super Green Pass. Lei sta chiedendo a me se ho il Super Green Pass. Dimmi tutto Cici. Il signore non mi vuole far vedere il suo Green Pass. Ci penso io. E lei chi sarebbe? Mi chiamo Massimo Decima Dose Meridio. Comandante del Super Green Pass Infinti Gold Edition. Generale dei tripla dose vaccinati. Guarito due volte. Oggi doppio tampone. E me so beccato pure una capocciata dai No Max. E avrò la mia vendetta. in questa ondata o nell'altra. Ci scusi tantissimo. È colpa nostra. Immagino un po' più alto, un po' più bagno. Prego, prego, prego. Ci scusi ancora. Champagni per il signore, eh. Un eroe. È un eroe. Oh, speriamo con tutto sto casino almeno a Natale i panettoni ce le fanno mangiare, eh. Però con l'uva pass. Solo con l'uva pass. Pass, pass. Eh. Io ti ammazzo. Non me ne frega niente davanti a tutti. Io ti ammazzo. Mi faccio la galera. Ma ti ammazzo. Vabbè, ma era una batt... Vabbè, ma due candidi ce li metto. Se ce tieni io proprio così tanto, due candidi ce li mettiamo. Scusita, ciò che ci sai. Ci mangia da tutto. A Natale lei se vuole ingrassare. Grazie. Prego. Rovina la cena di Natale usando solo quattro parole. Non sento i sapori. Che c***o. Questo e altri 999 consigli su come evitare le rotture di palle a Natale. E non parliamo di quelle dell'albero. Natale. Natale. Parca put... Parca put... Parca put... Parca put...